secondo epilogo stava contando di nuovo contava, contava sempre sette giorni dall'ultimo mestruo sei prima che potesse essere fertile dai ventiquattro ai trentun giorni prima di potersi aspettare di nuovo il ciclo sempre che non concepisse cosa che probabilmente non sarebbe accaduta era sposata con Michael da tre anni tre anni! aveva avuto il suo periodo trentatré volte le aveva ovviamente contate aveva tracciato dei deprimenti trattini su un pezzo di carta che aveva infilato nella scrivania nell'angolo in fondo al cassetto centrale dove Michael non poteva vederlo lo avrebbe addolorato non tanto per se stesso che comunque desiderava un figlio ma perché lei lo voleva disperatamente Francesca cercava di nascondergli il suo dolore cercava di sorridergli a colazione fingendo che non le importasse di avere un pannolino di stoffa fra le gambe ma Michael lo capiva sempre dal suo sguardo e durante il giorno le stava più vicino le baciava la fronte più spesso si ripeteva che avrebbe dovuto ringraziare il destino per le sue fortune e lo faceva ogni giorno era Francesca Bridgerton Stirling contessa di Kilmartin e aveva due meravigliose famiglie quella di origine e quella acquisita due volte attraverso il matrimonio suo marito era un sogno per la maggior parte delle donne bello intelligente spiritoso e follemente innamorato di lei quanto lei lo era di lui Michael la faceva ridere rendeva tutti i suoi giorni una gioia e le sue notti un'avventura adorava parlare con lui passeggiare con lui anche semplicemente stare seduta nella stessa stanza con lui a lanciarsi occhiate furtive mentre entrambi fingevano di leggere un libro era felice lo era davvero e se non avesse mai avuto un bambino aveva comunque quell'uomo meraviglioso straordinario con la sua eccezionale capacità di comprenderla la conosceva profondamente e lei lo amava lo amava con tutto il cuore di solito questo era sufficiente più che sufficiente ma notte fonda quando Michael si addormentava e lei restava sveglia coccolata al suo fianco avvertiva un vuoto che temeva nessuno dei due sarebbe mai riuscito a colmare si toccava la pancia ed eccola lì piatta come sempre a dileggiarla con il proprio rifiuto di fare la cosa che lei più desiderava al mondo era a quel punto che si metteva a piangere doveva avere un nome pensò Michael mentre in piedi davanti alla finestra guardava Francesca scomparire dietro la collina che conduceva al cimitero di famiglia di Kilmartin doveva esistere un nome per quello specifico tipo di dolore di tortura tutto quello che desiderava al mondo era renderla felice o certo si augurava anche altro pace salute prosperità per i suoi fittavoli uomini saggi a occupare la posizione di primo ministro per i prossimi cent'anni ma in fondo in fondo quel che voleva era la felicità di Francesca l'amava l'aveva sempre amata era o meglio avrebbe dovuto essere la cosa più semplice del mondo l'amava e basta e avrebbe mosso cielo e terra per renderla felice se solo fosse stato in suo potere peccato che non riuscisse a darle ciò che bramava più di tutto che desiderava disperatamente che la costringeva a una strenua lotta per nascondere il dolore un bambino e lo strano era che anche lui stava cominciando a provare lo stesso dolore all'inizio soffriva per lei Francesca voleva un bambino e di conseguenza lo voleva anche lui voleva essere madre e di conseguenza lui voleva che lo fosse voleva vederla collare un figlio non tanto perché sarebbe stato figlio suo ma perché sarebbe stato di Francesca voleva che avesse ciò che desiderava e egoisticamente voleva essere lui a darglielo di recente però anche lui aveva provato un certo dolore quando si recavano in visita da uno dei molti fratelli o sorelle di Francesca venivano subito circondati dalla nidiata di figli gli si attaccavano i pantaloni gridando zio Michael e ridevano come matti quando lui li gettava in aria scongiurandolo di farlo una volta in più o di dar loro un'altra mentina in segreto i Bridgerton erano incredibilmente fertili sembravano in grado di mettere al mondo il numero esatto di figli che desideravano e poi ancora uno per sicurezza tutti eccetto Francesca 584 giorni dopo Francesca scese dalla carrozza dei Kilmartin e respirò l'aria fresca e pulita delle campagne del Kent era già primavera e il calore del sole le sfiorava le guance ma il vento quando soffiava portava ancora con sé gli ultimi cenni dell'inverno a Francesca non dispiaceva aveva sempre gradito il pizzicore del vento freddo sulla pelle Michael invece non lo sopportava si lamentava sempre di non riuscire adeguarsi a un clima freddo dopo tutti gli anni passati in India a Francesca spiaceva che lui non l'avesse potuta accompagnare in quel lungo viaggio dalla Scozia per il battesimo della figlia di Ayacint Isabella l'avrebbe raggiunta in seguito ovviamente lei e Michael non avevano perso nemmeno uno dei battesimi dei nipotini alcuni affari a Edimburgo però lo avevano trattenuto anche Francesca avrebbe potuto ritardare il viaggio ma erano passati molti mesi dall'ultima volta che aveva visto i familiari e le mancavano molto era strano da giovane aveva sempre avuto una gran voglia di andare via di avere una casa sua una propria identità adesso mentre i nipotini crescevano andava a trovarli sempre più spesso non voleva perdersi in nessun evento significativo le era accaduto di trovarsi da Colin quando sua figlia Agatha aveva fatto i primi passi era stata un'esperienza mozzafiato anche se poi di notte aveva pianto in silenzio nel suo letto se non fosse mai diventata madre almeno avrebbe potuto godere di quei momenti non riusciva a sopportare l'idea di una vita senza di essi sorridendo Francesca consegnò il mantello a un valletto per poi percorrere i noti corridoi di Aubry Hall aveva trascorso gran parte della giovinezza in quella residenza e a Bridgerton House a Londra Anthony e sua moglie avevano apportato alcuni cambiamenti ma nel complesso molto era rimasto inalterato le pareti erano ancora color crema con una lieve tonalità pesca e il Fragonard che suo padre aveva acquistato per il trentesimo compleanno della moglie era ancora appeso sopra il tavolino posto accanto alla porta del salotto rosa Francesca si voltò sua madre era balzata in piedi dalla poltrona da quanto tempo sei qui fuori le domandò Violet andando a salutarla Francesca l'abbracciò non molto stavo ammirando il quadro Violet le si avvicinò e insieme guardarono il Fragonard è meraviglioso vero mormorò mentre un sorriso nostalgico le sfiorava il volto lo adoro commentò Francesca mi è sempre piaciuto moltissimo mi fa pensare a papà Violet la guardò sorpresa davvero Francesca comprese la sua reazione sulla tela era ritratta una giovane donna con un mazzo di fiori e un biglietto non era un soggetto molto virile la donna si guardava dietro una spalla con espressioni un po' maliziosa come se dato il giusto spunto potesse mettersi a ridere Francesca non rammentava molto della relazione dei genitori perché quando il padre era morto aveva soltanto sei anni ricordava tuttavia la sua risata anzi viveva dentro di lei ritengo che il vostro matrimonio sia stato così disse indicando il dipinto Violet indietreggiò di mezzo passo e piegò di lato la testa probabilmente hai ragione convenne soddisfatta per quella intuizione non ci avevo mai pensato dovreste portarvi il quadro a Londra affermò Francesca è vostro no? Violet a Rossi e per un fugace istante Francesca vide brillare nei suoi occhi la ragazzina che doveva essere stata un tempo sì rispose ma il suo posto è qui è qui che tuo padre me lo ha regalato e questo indicò la parete è il punto in cui lo abbiamo appeso insieme eravate molto felice constatò Francesca non era una domanda soltanto un'osservazione come te Francesca annui Violet le prese la mano e gliela accarezzò mentre entrambe continuavano a osservare il quadro Francesca sapeva perfettamente a cosa stava pensando la madre alla sua infertilità ma sembravano avere un tacito accordo di non parlarne e in fondo perché avrebbero dovuto cosa avrebbe potuto dire per farla stare meglio Francesca non poteva dire nulla perché avrebbe rischiato di farla sentire anche peggio e così restarono lì in piedi con lo stesso pensiero in mente senza esprimerlo chiedendosi chi delle due ne soffrisse di più Francesca immaginava di essere lei dopo tutto era suo l'utero sterile forse però il dolore della madre era più acuto Violet era sua madre e soffriva per i sogni irrealizzati della figlia sarà stato doloroso no? e l'ironia era che Francesca non lo avrebbe mai saputo non avrebbe mai saputo che effetto faceva soffrire per un figlio perché non avrebbe mai sperimentato cosa significava essere madre aveva quasi 33 anni non conosceva alcuna donna sposata che avesse raggiunto quell'età senza concepire un figlio pareva che i bambini giungessero subito dopo il matrimonio o mai più è già arrivata Iacint domandò continuando a fissare il quadro tutta presa dallo scintillio negli occhi della donna non ancora ma Eloise sarà qui nel tardo pomeriggio è Francesca colse l'esitazione nella voce della madre prima che si interrompesse è davvero incinta? domandò ci fu un istante di silenzio e poi Violet replicò sì ma è magnifico esclamò Francesca ed era proprio quello che pensava solo che non sapeva come renderlo credibile agli altri non volle guardare la madre in faccia perché sarebbe scoppiata a piangere si schierì la voce e piegò la testa di lato come se ci fosse qualche centimetro del fragonar che non aveva ancora scrutato altri si informò sentì la madre irrigidirsi lievemente e si chiese se stesse pensando di fingere di non aver capito la domanda Lucy ribatté con un filo di voce alla fine Francesca si voltò e la guardò sottraendo la mano alla sua presa di nuovo commentò Lucy e Gregory erano sposati da meno di due anni e aspettavano già il secondo figlio Violet annuì mi dispiace non ditelo nemmeno per scherzo replicò Francesca inorridita per il tono della madre non è qualcosa di cui dispiacersi no si affrettò a precisare Violet non era ciò che intendevo dovreste essere felice per loro lo sono più felice per loro di quanto non siate dispiaciuta per me insistette Francesca con voce strozzata Francesca Violet cercò di toccarla ma lei si ritrasse dovete promettermelo aggiunse dovete promettermi che sarete sempre più felice che dispiaciuta la madre la fissò con espressione impotente e Francesca si rese conto che non sapeva cosa dire per tutta la vita Violet Bridgerton era stata la più sensibile e magnifica delle madri appena i suoi figli avvertivano un bisogno lei lo intuiva che fosse una parola affettuosa un gentile incitamento o anche un proverbiale gigantesco calcio nel sedere in quel preciso istante però Violet era smarrita ed era stata Francesca a farla sentire così mi dispiace mamma le disse mi dispiace tanto no Violet si sporsi in avanti per abbracciarla e questa volta Francesca non si tirò indietro no tesoro mio ripete accarezzandole dolcemente i capelli non dirlo ti prego non dirlo Francesca lasciò che la madre la stringesse e la consolasse e quando le sue calde lacrime cominciarono a cadere sulla spalla di Violet nessuna delle due proferì parola quando Michael arrivò due giorni dopo Francesca si era lanciata nei preparativi per il battesimo della piccola Isabella e la conversazione con la madre era stata ormai se non dimenticata quantomeno messa da parte in fondo non c'era proprio nulla di nuovo Francesca era infeconda come tutte le altre volte che era andata in Inghilterra a trovare la famiglia l'unica differenza era che in quell'occasione aveva accennato alla questione quel poco che aveva potuto eppure aveva la sensazione che le si fosse sollevato un peso di dosso quando si era trovata fra le braccia della madre in quel corridoio le era sgorgato fuori qualcosa insieme alle lacrime anche se soffriva ancora per i bambini che non avrebbe mai avuto per la prima volta da moltissimo tempo si sentì francamente felice era strano e meraviglioso e si rifiutò assolutamente di mettere in discussione quel sentimento sia Francesca Francesca sorrise mentre prendeva a braccetto una delle nipoti Charlotte la figlia più piccola di Anthony avrebbe compiuto otto anni il mese successivo cosa c'è tesoro? hai visto il vestito della bambina? è così lungo lo so è pieno di fronzoli i vestitini da battesimo sono sempre pieni di fronzoli anche quelli dei maschietti sono tutto un pizzo mi sembra uno spreco commentò Charlotte scrollando le spalle Isabella non si rende nemmeno conto di indossare un abito così bello oh ma noi sì Charlotte riflettè per qualche istante ma a me non interessa e a te? Francesca ridacchiò no penso proprio di no le voglio bene indipendentemente da ciò che indossa continuarono a passeggiare in giardino e a cogliere i giacinti per addobbare la cappella ne avevano quasi riempito un cestino quando sentirono l'inconfondibile rumore di una carrozza che si avvicinava sul vialetto d'ingresso chissà chi sarà esclamò Charlotte sollevandosi sulle punte dei piedi come se ciò potesse permetterle di scorgere meglio il veicolo non saprei rispose Francesca nel pomeriggio dovevano arrivare un sacco di parenti forse è lo zio Michael Francesca sorrise lo spero io adoro lo zio Michael sospirò Charlotte e Francesca per poco non scoppiò a ridere negli occhi della nipote infatti notò uno sguardo che aveva già visto migliaia di volte le donne adoravano Michael e pareva che nemmeno le bambine di sette anni fossero immuni al suo fascino beh è molto bello ammise Francesca Charlotte scrollò le spalle penso di sì pensi di sì replicò Francesca sforzandosi di non sorridere a me piace perché mi lancia in aria quando papà non guarda ama molto ignorare le regole Charlotte sogghignò lo so è per questo che non lo dico a papà Francesca non aveva mai ritenuto che Anthony fosse particolarmente rigido ma era il capofamiglia da oltre vent'anni e forse quel ruolo gli aveva infuso un certo amore per l'ordine e la disciplina e bisognava ammettere gli piaceva comandare resterà un nostro segreto sussurrò Francesca all'orecchio della nipote chinandosi e tutte le volte che vorrai venirci a trovare in Scozia sarai la benvenuta noi ignoriamo spesso le regole Charlotte sbarrò gli occhi davvero a volte facciamo colazione a cena magnifico e camminiamo sotto la pioggia Charlotte scrollò le spalle tutti camminano sotto la pioggia forse sì ma noi a volte balliamo Charlotte indietreggiò di un passo posso tornare indietro con voi adesso dipende dai tuoi genitori tesoro quindi si mise a ridere e prese Charlotte per mano però potremmo danzare anche subito qui Francesca annui dove tutti possono vederci non mi pare che ci sia qualcuno ribatte Francesca guardandosi attorno e se anche ci fosse a chi importerebbe Charlotte increspò le labbra e Francesca riuscì letteralmente a vedere la sua mente al lavoro a me no esclamò e prese a braccetto la zia improvvisarono insieme una piccola giga seguita da un reel scozzese girando e volteggiando fino a restare entrambe senza fiato come vorrei che piovesse disse Charlotte ridendo ma che divertimento sarebbe domandò una voce maschile zio Michael strillò subito la bambina lanciandosi verso di lui sono stata dimenticata all'istante commentò Francesca con una smorfia Michael le rivolse uno sguardo colmo d'amore da sopra la testa di Charlotte non da me murmurò io e la zia Francesca stavamo danzando loro agguagliò subito la nipotina lo so vi ho viste da dentro casa ma mi è piaciuto soprattutto quel ballo nuovo quale Michael si finse confuso quello che stavate eseguendo non abbiamo inventato danze nuove riplicò Charlotte corrugando la fronte qual era allora quella in cui vi siete buttate sull'erba Francesca si morse un labbro per evitare di sorridere siamo cadute zio Michael no sì era un passaggio alquanto vivace confermò Francesca allora dovete essere particolarmente aggraziate perché sembrava proprio che lo aveste fatto apposta ma no esclamò Charlotte tutta eccitata siamo soltanto cadute per puro caso penso proprio che ti crederò fece con un sospiro ma soltanto perché so che sei troppo sincera per mentire la bambina lo fissò negli occhi con espressione languida io non ti mentirei mai zio Michael gli disse lui la baciò su una guancia e la depositò a terra tua madre ha avvisato che è ora di pranzo ma sei appena arrivato non andrò da nessuna parte e tu hai bisogno di nutrimento dopo tutto quel danzare non ho fame ribatte lei un vero peccato commentò Michael perché avevo intenzione di insegnarti a ballare il waltzer questo pomeriggio ma di certo non potrai farlo con lo stomaco vuoto Charlotte sbarrò gli occhi e sterrefatta davvero papà ha detto che non posso impararlo prima dei dieci anni Michael le elargì uno dei suoi sorrisetti a mezza bocca che ancora facevano sciogliere Francesca allora sarà meglio non riferirglielo no oh zio Michael ti adoro disse la piccola con ardore e poi dopo un abbraccio vigoroso corse verso Aubriol un'altra vittima commentò Francesca scuotendo la testa mentre guardava la nipotina sfrecciare attraverso il prato Michael le prese la mano e la attirò a sé che intendi Francesca un po' sorridendo e un po' sospirando scimmiottò la nipotina io non ti mentirei mai spero proprio di no le disse baciando la compassione lei lo guardò negli occhi godendosi il conforto del calore del suo corpo pare che non esistano donne immuni al tuo fascino allora sono stato proprio fortunato a essere rimasto incantato soltanto da una io sono stata fortunata beh sì replicò lui con falsa modestia ma non lo avrei mai detto Francesca gli diede una pacca sul braccio come risposta lui la baciò mi sei mancata anche tu come stai clan Bridgerton le domandò prendendola a braccetto magnificamente rispose Francesca mi piace molto stare qui in realtà come in realtà le domandò vagamente divertito Francesca lo condusse lontano dalla casa non lo vedeva da una settimana e al momento non aveva voglia di condividerlo con nessuno che intendi dire hai detto in realtà come se ne fossi sorpresa ma no replicò lei poi ci pensò un po' su sto sempre bene quando faccio visita alla mia famiglia affermò ma ma questa volta è anche meglio scrollò le spalle non so perché il che non era esattamente vero quel momento con sua madre quelle lacrime erano state magiche non poteva tuttavia raccontarglielo Michael si sarebbe soffermato soltanto sul pianto si sarebbe preoccupato e lei si sarebbe sentita male per avergli dato un croccio era stanca di quello schema inoltre era un uomo non avrebbe comunque potuto capire mi sento felice annunciò c'è qualcosa nell'aria in effetti c'è un bel sole osservò lui Francesca scrollò le spalle appoggiò la schiena contro un albero gli uccellini stanno cinguettando i fiori stanno sbocciando qualcuno ammise lei manca solo un coniglietto che saltelli attraverso il prato disse lui osservando il paesaggio Francesca gli sorrise e si sporse per essere baciata l'atmosfera bucolica è meravigliosa vero Michael la baciò con il solito ardore mi sei mancata le sussurrò con la voce roca per il desiderio lei emise un gemito quando cominciò a mordicchiarle un orecchio lo so lo hai già detto sempre meglio ripetere avrebbe voluto ribattere con qualcosa di spiritoso sul fatto che non si stancava mai di sentirglielo dire ma in quel momento si trovò premuta contro l'albero con una gamba sollevata sopra il fianco di lui hai addosso decisamente troppi strati brontolò Michael siamo un po' troppo vicini a casa ribatte lei in un sussurro il ventre teso per il desiderio mentre lui le si strofinava contro quanto manca per non essere troppo vicini le mormorò infilandole una mano sotto le gonne non molto Michael indietreggiò appena e la fissò davvero sì Francesca incurvò le labbra in un sorriso e si sentì quasi diabolica si sentì potente aveva voglia di prendere il comando di quell'uomo della propria vita di tutto seguimi gli disse impulsivamente quindi lo prese per la mano e si mise a correre Michael aveva sentito la mancanza della moglie di notte quando non era con lui il letto gli sembrava freddo e la stanza vuota anche quando era stanco e il suo corpo non bramava quello di lei desiderava ardentemente la sua presenza il suo profumo il suo calore gli mancava il suono del suo respiro l'inclinazione del materasso quando vi affondava il suo corpo ed era consapevole che la moglie sebbene più riservata e meno propensa a usare parole tanto appassionate provava le stesse sensazioni fu tuttavia una piacevole sorpresa trovarsi trascinato di corsa attraverso un campo sapendo che nel giro di pochi minuti si sarebbe tuffato dentro di lei ecco qui disse francesca fermandosi ai piedi di una collina qui domandò lui dubbioso non c'erano alberi a fornire copertura nulla che potesse impedire a un eventuale passante di vederli lei si sedette qui non viene mai nessuno nessuno l'erba è molto morbida gli spiegò quindi con voce sua dente indicandogli il posto accanto a sé non ho intenzione di chiederti come fai a saperlo bofonchiò picnic gli rispose con un'espressione deliziosamente offesa con le mie bambole lui si tolse la giacca e la stese sull'erba come una coperta il terreno era lievemente inclinato e quindi più comodo per lei la guardò guardò la giacca lei non si mosse tu disse invece io stenditi gli ordinò lui obbedì subito diligente poi prima ancora che avesse il tempo di fare un commento o di cominciare a stuzzicarla lei gli si mise sopra a cavalcioni oh santo esclamò senza riuscire a finire la frase francesca lo stava baciando in modo appassionato famelico e aggressivo era tutto magnificamente familiare lui l'amava amava tutto di lei dai segni al ritmo dei baci eppure questa volta gli sembrava diversa rinnovata le mise una mano sulla nuca a casa gli piaceva toglierle gli spilloni dai capelli uno a uno osservando ogni ciocca scivolarle giù dall'acconciatura quel giorno però era troppo eccitato troppo smanioso e non aveva la pazienza per perché le domandò all'improvviso lei aveva spostato bruscamente la mano con gli occhi languidamente socchiusi francesca sussurrò oggi comando io michael sentì il corpo tendersi ulteriormente dio quella donna lo avrebbe ucciso non essere troppo lenta le raccomandò sussultando probabilmente lei non lo sentì affatto gli stava già sbottonando i calzoni poi gli fece scivolare le mani lungo il ventre finché non trovò il membro freni un dito fu tutto quello che gli concesse la carezza di un dito sul membro quindi si voltò a guardarlo è divertente osservò lui si stava concentrando per riuscire a respirare ti amo e disse con un filo di voce e michael la sentì alzarsi si sollevò le gonne sulle cosce mentre si posizionava e poi con un movimento fluido lo accolse dentro di sé michael aveva voglia di muoversi voleva spingere verso l'alto oppure farla rotolare sulla schiena e penetrarla finché non fossero stati entrambi ridotti in polvere ma lei gli tenne bloccato il bacino quando la guardò notò che aveva gli occhi chiusi come se si stesse concentrando su qualcosa il suo respiro era lento e ritmico ma profondo e a ogni respiro sembrava calarsi su di lui un po' più energicamente freni gemette perché non sapeva cos'altro fare voleva che si muovesse più in fretta o più forte o che facesse qualcosa invece si limitava a oscillare avanti e indietro inarcando la schiena con un movimento che era un delizioso tormento le piazzò le mani sui fianchi con l'intenzione di sollevarla e abbassarla ma lei aprì gli occhi scosse la testa con un sorriso raggiante sul volto mi piace così gli disse Michael voleva qualcosa di diverso aveva bisogno di qualcosa di diverso ma quando lei lo guardò gli parve così contenta che non riuscì a negarle nulla poi all'improvviso lei cominciò a fremere e fu strano Michael conosceva benissimo il modo in cui arrivava all'orgasmo eppure questa volta gli sembrò più fluido e più forte al tempo stesso Francesca ondeggiò e poi emise un gridolino e si accasciò sopra di lui e proprio in quel momento con sua estrema sorpresa anche lui venne non credeva di essere pronto non si sentiva nemmeno prossimo all'orgasmo certo non gli sarebbe occorso molto se avesse avuto la possibilità di muoversi sotto di lei invece senza alcun preavviso era semplicemente esploso restarono lì per un po' mentre il sole tramontava lentamente sopra di loro Francesca nascose il volto contro il suo collo e lui la strinse chiedendosi come fosse possibile che esistessero momenti simili perché era perfetto e lui sarebbe rimasto così per sempre se avesse potuto e anche se non glielo domandò sapeva che lei provava lo stesso avevano intenzione di tornare a casa due giorni dopo il battesimo pensò Francesca mentre osservava uno dei nipoti gettarne a terra un altro ma erano già passate tre settimane e lei e Michael non avevano nemmeno cominciato a fare i bagagli spero che non ci siano ossa rotte Francesca sorrise alla sorella Eloise anche lei aveva deciso di prolungare la visita a Aubrey Hall no rispose trasalendo quando l'undicenne Davy futuro duca di Hastings emise un grido di guerra e balzò giù da un albero ma non perché non ci abbiano provato Eloise si sedette accanto a lei e orientò la faccia verso il sole fra un minuto mi rimetto il cappellino lo giuro disse non sono riuscita a capire bene le regole del gioco osservò Francesca Eloise non si degnò nemmeno di aprire gli occhi perché non ce ne sono Francesca guardò quel trambusto da un altro punto di vista Oliver il figliastro dodicenne di Eloise si era impossessato di una palla ma quando era entrata in gioco la palla e stava sfricciando attraverso il prato sembrò raggiungere la meta anche se Francesca non riuscì a capire se la meta fosse l'enorme tronco di quercia che si trovava lì da quando era piccola oppure Mais il secondo figlio di Anthony che era rimasto seduto a gambe e braccia incrociate da quando lei era arrivata dieci minuti prima in ogni caso Oliver doveva aver segnato un punto perché picchiò la palla a terra e poi cominciò a saltellare urlando di gioia Mais doveva fare parte della sua squadra primo indizio che potessero esserci delle squadre perché balzò in piedi e cominciò a esultare a sua volta Eloise aprì un occhio mio figlio non ha ucciso nessuno vero? no nessuno ha ucciso lui? Francesca sorrise no bene quindi sbadigliò e si accomodò meglio sulla sedia a sdraio Francesca ripensò alle sue parole Eloise eh? tu corrugò la fronte non c'era davvero un modo carino per chiederlo il tuo amore per Oliver e Amanda sarà mai minore? terminò Eloise per lei sì Eloise si drizzò e aprì gli occhi no davvero non che Francesca non le credesse adorava i nipoti con tutta se stessa avrebbe dato la vita per chiunque di loro Oliver e Amanda inclusi senza la minima esitazione ma non aveva mai partorito non aveva mai portato in grembo un figlio quantomeno non a lungo e non sapeva se ciò avrebbe potuto fare la differenza se avesse avuto un figlio con il sangue suo e di Michael si sarebbe resa conto all'improvviso che l'amore che provava per Charlotte Oliver Miles e tutti gli altri le sarebbe sembrato all'improvviso una bazzecola rispetto a ciò che provava per il suo bambino c'era una differenza voleva che ci fosse pensavo che sarebbe accaduto ammise Eloise ho iniziato a volere bene a Oliver e Amanda ben prima di avere Penelope come avrei potuto non amarli sono un pezzo di Philip e poi continuò assumendo un'espressione riflessiva come se non ci avesse mai pensato bene loro sono loro e io sono la loro madre Francesca sorrise mestamente in ogni caso continuò Eloise prima di avere Penelope e anche quando ero incinta ho pensato che sarebbe stato diverso si interruppe ed è diverso si interruppe di nuovo ma non è meno cioè non è una questione di livelli o quantità e nemmeno a dire il vero di qualità scrollò alle spalle non riesco a spiegarlo Francesca tornò a guardare il gioco che era ripreso con rinnovata energia no disse con un filo di voce penso che tu lo abbia già fatto ci fu un lungo silenzio e poi Eloise esordì tu non ne parli molto Francesca scosse la testa no vuoi farlo Francesca ci pensò per qualche istante non lo so si girò verso la sorella si erano accapigliate per gran parte dell'infanzia tanto che sotto molti punti di vista Eloise rappresentava l'altra faccia della sua medaglia si assomigliavano moltissimo a parte il colore degli occhi e condividevano perfino il compleanno a un anno di distanza Eloise la stava fissando con tenera curiosità una solidarietà che solo poche settimane prima le sarebbe risultata insopportabile in quel momento invece era solo confortante Francesca non si sentiva compatita ma amata sono felice affermò ed era vero per una volta non provava quel vuoto doloroso che le stava annidato dentro si era perfino dimenticata di contare non sapeva quanti giorni fossero passati dall'ultimo ciclo e stava davvero bene odio i numeri bofonchiò come? trattenne un sorriso niente il sole che era stato oscurato da un sottile strato di nubi balzò fuori all'improvviso Eloise si schermò gli occhi con le mani e si stese di nuovo sulla sedia a sdraio cielo commentò mi sembra che Oliver si sia seduto sopra mais Francesca scoppiò a ridere e poi prima ancora di capire cosa stava per fare si alzò dici che mi faranno giocare Eloise la fissò come se fosse impazzita e forse lo era davvero guardò i ragazzi e poi di nuovo Francesca poi si alzò se lo fai tu lo faccio anche io non puoi l'ammonì Francesca sei incinta da poco replicò Eloise sbuffando inoltre Oliver non oserà sedersi sopra di me le tese la mano andiamo sì andiamo Francesca prese per mano la sorella e insieme corsero lungo la collina strillando come due ossesse e godendosela un mondo ho sentito che hai dato un bello spettacolo oggi pomeriggio osservò Michael sedendosi sul bordo del letto Francesca non mosse nemmeno una palpebra e si limitò a commentare sono esausta lui le spazzolò con la mano l'urlo impolverato dell'abito è anche sporca troppo stanca per lavarmi Anthony mi ha detto che mai sei rimasto alquanto impressionato pare che tiri piuttosto bene per essere una donna sarebbe stato fantastico replicò lei se qualcuno mi avesse informata prima che non dovevo usare le mani Michael ridacchiò a cosa avete giocato di preciso non ne ho idea Francesca emise un gemito di stanchezza potresti massaggiarmi i piedi lui si sedette meglio sul letto e le sollevò il vestito fino al polpaccio aveva i piedi sudici cielo esclamò ma sei andata a piedi nudi non potevo giocare con le scarpe che avevo come se l'è cavata Eloise pare che lei sappia lanciare come un maschio avevo capito che non potevate usare le mani a quel punto Francesca si sollevò sui gomiti indignata lo so dipendeva dal punto in cui ci si trovava nel campo mai sentito parlare di una cosa simile Michael le prese un piede fra le mani ripromettendosi di lavarle in seguito dei piedi poteva occuparsene lei non avevo idea che fossi un tipo così competitivo osservò è un tratto di famiglia bufonchiò no non lì ecco lì più forte oh perché mai ho la sensazione di avertelo già sentito dire riflette lui ma in un'occasione in cui io mi stavo divertendo molto di più stai zitto e continuo a massaggiarmi i piedi al vostro servizio maestà mormorò sorridendo quando si rese conto che le era piaciuto moltissimo sentirsi chiamare in quel modo dopo un paio di minuti di silenzio rotto soltanto dall'occasionale gemito di Francesca le chiese quanto vuoi restare ancora non vedi l'ora di tornare a casa ho alcune questioni di cui mi devo occupare replicò ma nulla che non posso aspettare a dire il vero mi sto divertendo con la tua famiglia lei inarcò le sopracciglia e gli sorrise sul serio sì anche se ho trovato un po' avvilente essere battuto da tua sorella nella gara di tiro con la pistola lei batte sempre tutti la prossima volta sfida Gregory che non riesce a colpire nemmeno un albero Michael cominciò a occuparsi dell'altro piede Francesca sembrava così contenta e rilassata e non soltanto in quel momento lo era stata a cena in salotto quando aveva inseguito i nipotini e lo era anche di notte quando facevano l'amore nell'enorme letto a baldacchino lui era pronto a tornare a Kilmartin che sebbene antica e piena di spifferi era incontrovertibilmente casa loro tuttavia sarebbe stato felice di rimanere lì per sempre se ciò avesse significato vedere Francesca così serena credo che tu abbia ragione gli disse ovvio replicò Michael ma riguardo a che cosa di preciso è arrivato il momento di tornare a casa non ho detto che è necessario ti ho soltanto domandato che intenzioni hai non hai avuto bisogno di specificarlo replicò lei se vuoi ristare Francesca scosse la testa no voglio tornare a casa a casa nostra con un gemito e tutta irrigidita si sollevò dal letto è stato un periodo magnifico e mi sono davvero divertita ma mi manca Kilmartin ne sei sicura mi manchi anche tu Michael inarcò le sopracciglia ma io sono qui lei gli sorrise e si sporse in avanti voglio averti soltanto per me devi solo esprimere le tue volontà mia signora in qualsiasi momento o in qualsiasi luogo ti porterò via e tu potrai fare di me ciò che vorrai Francesca ridacchiò magari anche adesso l'idea era ottima ma un certo senso della cavalleria gli impose di dirle temevo che fossi tutta indolenzita non così tanto e poi se ti occupi tu di tutto questo mia cara non è certo un problema si tolse la camicia e le si stese accanto poi prese a baciarla con passione dopo qualche minuto si allontanò appena sospirando soddisfatto e la guardò sei bellissima le sussurrò più che mai lei sorrise quel sorriso caldo e sensuale che le illuminava il viso quando era stata appena soddisfatta o quando si aspettava di esserlo nel giro di poco tempo adorava quel sorriso cominciò a slacciarle i bottoni sulla schiena dell'abito ed era già arrivato a metà quando gli venne all'improvviso in mente qualcosa aspetta le disse puoi posso cosa lui si fermò corrugando la fronte mentre cercava di contare a mente non doveva avere le mestruazioni non hai il tuo periodo le domandò Francesca socchiuse le labbra e batte le palpebre no rispose un po' perplessa non tanto per la domanda quanto per la risposta no lui si spostò allontanandosi in modo da poterla guardare meglio in faccia pensi che non lo so stava ormai battendo le palpebre molto rapidamente suppongo potrei anche Michael avrebbe voluto saltare dalla gioia ma non osava non ancora quando credi che lo saprò non so forse fra un mese due forse due forse un po' prima non lo so si mise subito una mano sul ventre potrebbe non essere bene impiantato già confermò lui con estrema cautela però potrebbe potrebbe Michael sentì una risata ribollirgli dentro provò uno strano formicolio nello stomaco che risalì fino a esplodergli dalle labbra non possiamo esserne sicuri lo ammonì Francesca ma anche lei era tutta agitata no riconobbe ma in qualche modo sapeva che entrambi lo erano non voglio nutrire troppe speranze no certo che non dobbiamo Francesca sbarrò gli occhi e si posò anche l'altra mano sul ventre ancora assolutamente piatto senti qualcosa le sussurrò lei scosse la testa sarebbe comunque troppo presto Michael lo sapeva sapeva di saperlo quel che non sapeva era perché lo avesse chiesto a quel punto Francesca disse la più incredibile delle frasi ma c'è sussurrò io lo so Frenny se si fosse sbagliata se le si fosse di nuovo spezzato il cuore probabilmente lui non lo avrebbe sopportato Francesca però stava scuotendo la testa è vero disse senza tuttavia insistere non stava cercando di convincere né lui né se stessa glielo sentiva nella voce chissà come lo sapeva ti sei sentita poco bene le domandò lei scosse la testa hai dio non avresti dovuto giocare con i ragazzi questo pomeriggio Eloise lo ha fatto Eloise può fare quel che diavolo le pare non è te Francesca gli sorrise come una madonna e poi replicò non sono di vetro Michael ricordò quando aveva abortito qualche anno prima quella volta il bambino non era suo però aveva avvertito il dolore di Francesca incandescente e bruciante come un pugno che si stringe attorno al cuore John era appena morto ed entrambi erano ancora in preda al cordoglio quando lei aveva perso il suo bambino probabilmente nessuno dei due sarebbe riuscito a sopravvivere a un'altra perdita del genere Francesca lei incalzò devi stare attenta ti prego non succederà di nuovo rispose scuotendo la testa come fai a saperlo lei scrollò le spalle sconcertata non lo so è così e basta Michael sperò ardentemente che non si stesse illudendo vuoi dirlo ai tuoi le domandò con un filo di voce Francesca fece di no con la testa non ancora non tanto perché abbia paura di farlo si affrettò ad aggiungere voglio solo chiuse le labbra con un sorrisetto davvero incredibile voglio che questa cosa sia solo mia per un po' nostra lui si portò la sua mano alle labbra quanto tempo è per un po' non lo so i suoi occhi però stavano assumendo un'espressione furbesca non lo so proprio un anno dopo Violet Bridgerton amava tutti i suoi figli ma li amava in maniera diversa e quando doveva sentirne la mancanza lo faceva nel modo più logico il suo cuore si struggeva di più per quello che aveva visto di meno ecco perché mentre aspettava nel salotto di Aubrey Hall che una carrozza con lo stemma dei Kilmartin imboccasse il vialetto di ingresso si sentiva tutta agitata e balzava su ogni cinque minuti per andare a guardare dalla finestra ha scritto che sarebbero arrivati oggi la rassicurò Kate lo so rispose Violet con un sorrisetto appena accennato è solo che non la vedo da un anno so che la Scozia è lontana ma non mi è mai successo di non incontrare uno dei miei figli per un periodo così lungo davvero? domandò Kate è impressionante beh tutti quanti abbiamo le nostre priorità commentò Violet stabilendo che non aveva alcun senso fingere di non essere impaziente posò il ricamo e tornò alla finestra allungando il collo quando le sembrò di scorgere qualcosa che scintillava alla luce del sole anche quando Colin viaggiava tanto? domandò Kate 342 giorni è il periodo più lungo in cui è stato via replicò Violet quando viaggiava per il Mediterraneo li avete contati? Violet scrollò le spalle non posso esimermi mi piace contare ricordò tutto il contare che aveva fatto quando i figli stavano crescendo assicurandosi di avere alla fine di una gita lo stesso numero di bambini che aveva all'inizio aiuta a tenere il filo Kate sorrise e allungò la mano per far oscillare la culla che teneva ai piedi non mi lamenterò mai di doverne gestire solo quattro Violet attraversò la stanza per guardare l'ultima nipotina la piccola Mary è raggiunta un po' di sorpresa parecchi anni dopo Charlotte Kate aveva creduto di avere finito con le gravidanze ma poi dieci mesi prima era scesa dal letto si era incamminata con calma verso il vaso da notte aveva vomitato tutto quello che aveva nello stomaco e aveva annunciato a Anthony credo di essere di nuovo incinta quantomeno era ciò che avevano detto a Violet lei faceva in modo di stare sempre alla larga dalle camere da letto dei figli a meno che non fossero malati o partorienti io non mi sono mai lamentata osservò con un filo di voce Kate non la sentì ma Violet non lo aveva detto per lei sorrise alla piccola Mary che dormiva serenamente sotto una copertina viola credo che tua madre sarebbe stata felicissima disse guardando Kate Kate annuì e le si riempirono gli occhi di lacrime sua madre o meglio la sua matrigna anche se Mary Sheffield l'aveva allevata fin da piccola era mancata un mese prima che lei si rendesse conto di aspettare un figlio so che non hai consenso rivelò sporgendosi in avanti per osservare il volto della bimba più da vicino ma giurerei che un po' le assomiglia Violet batte le palpebre e piegò lievemente la testa di lato forse hai ragione c'è qualcosa nei suoi occhi no è il naso pensate davvero io credevo oh guardate Kate indicò la finestra non è Francesca Violet si raddrizzò e corsi alla finestra sì esclamò oh esplende il sole vado ad aspettarla fuori senza nemmeno voltarsi afferrò lo scialle e sfrecciò nel corridoio è passato moltissimo tempo dall'ultima volta che aveva visto Frenny ma non era l'unico motivo di tanto entusiasmo Francesca era cambiata durante l'ultima visita in occasione del battesimo di Isabella era difficile da spiegare ma Violet aveva avuto la sensazione che dentro di lei fosse cambiato qualcosa di tutti i suoi figli Francesca era sempre stata la più taciturna la più riservata amava la famiglia ma le piaceva anche starne lontana creandosi una sua identità vivendo la sua vita non destava sorpresa che non avesse mai voluto condividere i suoi sentimenti sull'aspetto più doloroso della sua esistenza l'infertilità l'ultima volta però fra di loro era accaduto qualcosa e Violet aveva avuto quasi la sensazione di essere riuscita ad assorbire parte di quel dolore quando Francesca era partita le nuvole nei suoi occhi erano sparite Violet non sapeva se avesse finalmente accettato il suo destino o se avesse semplicemente imparato a gioire di ciò che aveva ma le era sembrata davvero felice Violet corse lungo il corridoio alla sua età e aprì il portone per andare ad aspettarla sul vialetto la carrozza era quasi arrivata e stava affrontando l'ultima curva riuscì a scorgere Michael attraverso il finestrino lui la salutò e lei si illuminò oh quanto mi siete mancati esclamò andando incontro al genero quando balzò giù dalla carrozza dovete promettermi di non restare più tanto a lungo senza farmi visita come se io potessi rifiutarvi qualcosa replicò lui chinandosi per baciarle la guancia poi si voltò e tese le braccia per aiutare Francesca a scendere Violet abbracciò la figlia quindi fece un passo indietro per guardarla meglio Frenny era raggiante decisamente radiosa mi siete mancata mamma le disse Violet voleva risponderle ma si trovò stranamente senza fiato strinse le labbra nel tentativo di trattenere le lacrime non sapeva perché si sentisse così emozionata certo era passato un anno ma non era riuscita a sopportare un distacco di 342 giorni non era molto diverso ho una sorpresa per voi disse Francesca e Violet avrebbe potuto giurare che anche a lei lucicassero gli occhi quindi si voltò verso l'interno della carrozza e tese le braccia apparve una domestica con un fagotto in mano che consegnò subito alla padrona Violet trassalì santo cielo non era possibile che mamma annunciò Francesca con un filo di voce cullando il prezioso fagottino questo è John le lacrime che erano rimaste impaziente attesa negli occhi di Violet cominciarono a rigarle le guance offrenmi sussurrò prendendo il piccolo imbraccio perché non mi hai detto nulla e Francesca la sua esasperante imperscrutabile terza figlia femmina rispose non lo so è bellissimo esclamò Violet incurante di essere stata tenuta all'oscuro di tutto al momento non le importava nulla di nulla le importava soltanto del bambino che teneva fra le braccia e che la fissava con un'espressione tremendamente saggia ai tuoi occhi osservò guardando Francesca freni annui e il suo sorriso sembrò quello di una sciocchina come se nemmeno lei potesse crederci lo so e la tua bocca mi sembra di sì e il tuo oh cielo mi pare che abbia anche il tuo naso a quanto mi risulta commentò Michael divertito sono stato coinvolto anche io in questa creazione ma pare non ne siano restate tracce Francesca lo guardò con tanto amore che Violet restò quasi senza fiato hai il tuo fascino gli disse Violet scoppiò a ridere e poi rise ancora era troppo felice non poteva tenersi tutto dentro è arrivato il momento di presentare questo piccino alla sua famiglia affermò non vi pare Francesca allungò le braccia per riprendere il bambino ma Violet si voltò non ancora disse voleva tenerlo in braccio ancora un po' magari fino al martedì successivo mamma credo che abbia fame Violet la fissò con espressione decisa ce lo farà sapere ma ho una certa esperienza di bambini Francesca Bridgerton Sterling quindi sorrise a John so per esempio che adorano le nonne il piccolo fece una serie di rumori e poi ne era assolutamente certa sorrise vieni con me piccino gli sussurrò ho così tante cose da dirti alle sue spalle sentì Francesca rivolgersi a Michael pensi che lo riavremo prima della fine della visita lui scosse la testa e aggiunse così avremo più tempo per cercare di dare una sorellina al pargolo Michael dagli retta suggerì Violet senza nemmeno voltarsi santo cielo mormorò Francesca ma le diede retta e ne fu felice e nove mesi dopo accolse con gioia Janet Helen Sterling che era assolutamente identica al padre mi sento una bomba la bomba la bomba è luce Grazie a tutti.